Il controverso influencer Andrew Tate e il fratello Tristan sono stati interrogati dai magistrati romeni. Per la prima volta i due hanno lasciato gli arresti domiciliari disposti più di una settimana fa dopo tre mesi di detenzione. Sono sotto inchiesta per presunto traffico di esseri umani e stupro. Avrebbero adescato e sfruttato diverse ragazze costringendole a girare filmati pornografici per venderli poi su internet.